Empa e Cooperativa Sociale La Spiga di Grano si sono aggiudicate la gara per la gestione del canile di Pistoia. Ad annunciare l'assegnazione sono stati gli stessi due soggetti che si erano uniti per partecipare al bando di Palazzo di Giano e che interessa anche la gestione di altri servizi legati agli animali. Dal 1 di gennaio 2017, per i prossimi 5 anni, le due realtà gestiranno dunque insieme il canile sanitario di Rifugio, le colonie feline, il soccorso e le cure nel tentativo di creare un servizio moderno ed efficiente. La regia e la gestione della gara è stata coordinata dall'EMPA nazionale e dal Consorzio di Cooperative Sociali, Coeso, che, come si legge in una nota congiunta dei vincitori del bando, hanno creduto in questa importante sperimentazione nata dal territorio. La linea, si spiega ancora, è quella di riuscire a coniugare una tutela attenta per gli animali, politiche di adozione serie ed inclusive, servizi di qualità per i cittadini e garantire formazione e tutela per i lavoratori in un equilibrio di sostenibilità economica, sfide non facili che la nuova gestione si trova ad affrontare. Siamo felici di essere riusciti a garantire una risposta seria e professionale, spiegano Rossella Ghielardini, presidente dell'EMPA di Pistoia, ed Enrico Pellegrini, presidente della Cooperativa Sociale La Spiga di Grano, emersa dal confronto tra due realtà senza fine di lucro e che parte dal territorio per il territorio, segno che il Pistoiese è vivo e attento. Metteremo tutte le nostre energie per costruire un modello positivo, con le risorse messe in gara, hanno aggiunto. Presto organizzeremo un momento pubblico per presentare alla cittadinanza la nuova gestione e la nuova organizzazione.